Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Tutti contenti, ma non troppo. Almeno fino a quando non sarà risolta la recente lita in cortile. Ma veniteci a parlare, no? Secondo me provate a chiarire senza che fate preziosi. Vediamo, ci pensiamo e vediamo. Ciao. Non ce lo voglio. Amo, guardami. Chiariamo. Poi ce ne stiamo per le nostre con tutti. Secondo me devono imparare a ragionare ognuna con la propria terza e non farsi condizionare l'una dal pensiero dell'altra. Vieni un attimo che chiariamo. Dai, fate il bravo. Brava. Brava Sofia. Fate il bravo e fate una pace. Potete uscire un attimo? Siamo da chiarire. Avete rotto il cazzo per chiarire. Bye. Sofia è la mia vita. Cioè lei è bella determinata tosta, se non c'è stata amica. Avete fatto una gran figura di merda, lo sapete questo. Anche te. Secondo me abbiamo fatto 50 e 50. No. Tu hai detto qualcosa e lei è andata via e te l'ha mandato al bacino. Eh sì. A quanto mi ricordo. Tu sei arrivata? No, 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 avete capito. Anche se io avessi detto qualcosa tu sei arrivata e mi hai detto vai taglia un po' più su, taglia un po' più su. Sì, tagliateli te qui, eh. Qua, ritroli ho togliati. Io non mi sento dalla parte della ragione ma manco quella del torto. Volevi fare la ganza? Volevi mandarmi i baci? Mandarmi il suo cazzo. Ok. Anche a me dispiace, ragazzi. Perché veramente, cioè... Sì, anche a me sono stati diversi tempi, raga. Perfetto. Niente più muso, niente più cazzo. Ah, io non ce l'ho avuto il muso, ragazzi. Ciao, ragazzi. Sì, niente. Risolto. Regà? Regà, io ce l'ho torto. Non sei chiarissimo, ce la fanno. Io ho detto, guarda, la figura di merda l'avete fatta e loro fanno anche più. Diciamo non mi fanto di niente, ok? Ognuna è rimasta della propria opinione. Ma un accordo perlomeno è stato raggiunto. E grazie a questo... Può tornare la pace tra le camerate. Priscilla mi piace perché comunque mi fa star bene. Mi tranquillizza. Pure il fatto che comunque ci sia interesse anche da parte sua che mi fa star più preso. Mi fa stra-piacere che si stia aprendo con me, Damiani. Per me piace proprio stare con un gruppo, perché io non sono venuta per farmi la coppia. Nel senso, sono venuta per vivere nella mia esperienza, conoscere nuove persone in un ambiente che ora non si può trovare fuori di qua. Vediamo, vai. Aspetta, aspetta, aspetta. Tipi tu io, tipi tu io, vai. Stiamo a far baciata. Un, due, tre, vai. Vai, vai, uno. Mi piace, mi piace. Questa è la tua fidanzia, dovresti stare arrabbiando. Questa è la tua fidanzia, dovresti stare arrabbiando. Lo so. La razza insieme a me è stata un po' esagerata, anche perché voglio fare quello che voglio. Stai a dire? Frate, c'ho troppe cose in testa. E poi prima ho visto che balla con il piccolo, è andato di matto, mi aveva spaccato un mobile là. Io, ora come ora, non vorrei fidanzarmi con lui. Anche. Anche se che ho spaccato un po' è il mioagramma. E poi, qui ci sono un po' esagerata come hellurna, non vorrei che voglio fare perché ho cambiato l'opera. Per me, la casa è un po' esagerata più forte. Cosi che ci sono da le differenze. E poi, come vi, la tua fidanzia. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Grazie a tutti.